Musica Per concludo il secondo incontro del poverissimo tra Torino e Montevarchi, è finita Torino 4, Montevarchi 0. Ora c'erano in campo le formazioni dell'Abbico contro il Donaterno. Musica 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 Sì, si alzano tutti, sono tutti, attacchi! Sì, se sbaglia un nasce. Sì, se sbaglia un nasce. Sì, se sbaglia un nasce. 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 Forza raga! Forza raga! Forza, forza! Forza, forza! Bella Pietro, bravi! Forza! Forza, bravi ragazzi, forza! Bravo Pietro, dai, dai! Forza, forza! Forza, forza, forza! Dai, dai, dai! Largati fuori! Noce! Seppa! Partia, largatisci la fa! Vem più largo! Particini, vemi più largo! Vem più largo! Grazie. Stiamo lì adesso, teniamoli qui. Occhio Luccio, attento Luccio eh. Attenzione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Grazie a tutti. Ma se stavate riuscire, non è andato a riuscire a fare più. No? Non ci sta tricando. Ma vi ho altro perché dove andate a riuscire a fare più? Calma, calma! Chi? Bravo! Grazie. Due. Siete qui. No! 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 Signore. Grazie. 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 Grazie.